Il voto colpo è la 18 per il 2-1 orario di Dubai. La stagione è meravigliosa. Non avete ricordi, è una cornice dorata. Calzone. Questo che ha fatto vedere la linea perfetta con il t-shot. Il t-shot sta leggermente più a destra, ma è ugualmente un grandissimo traccio. Molta. Il t-shot diventa molto veloce. La strada, la tendenza va giù in discesa. Il t-shot. Grazie.